Il 5 gennaio del 2016 Il 5 gennaio del 2016 La Befana arriverà anche stasera con un effetto speciale che mi inventerò anche quest'anno, visto che non nevica probabilmente farò nevicare io con un effetto speciale. Io faccio tanti auguri e tanti in bocca al lupo alla Città delle Donne, a tutti coloro che partecipano a queste iniziative, lunga vita e spero di fare altrettanti, io ho 20 anni che vengo qua ormai, spero di farne altrettanti con la Città delle Donne. Un bacione da Walter Maffei e che la magia vi accompagni per tutto il 2016. Buonasera a tutti, sono Patrizia della Città delle Donne. Come ogni anno, eccoci arrivati alla festa della Befana che conclude il nostro circolo di iniziative. Come potete vedere abbiamo un sacco di premi e dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato donandoci tutti i premi, dai singoli cittadini ai commercianti alle ditte balnatesi, che nonostante gli anni di crisi sono sempre vicini alle nostre iniziative. Come sapete tutte le nostre iniziative hanno delle finalizzazioni, finalizzazioni che sono alla prevenzione. Abbiamo continuato nel 2015 le visite senologiche per donne di età comprese tra i 45 e i 49 anni. Stiamo ancora sostenendo il progetto con l'ospedale Fondazione Macchi per donne sottoposte a chemioterapia, donne in età fertili, ma il nostro orgoglio si chiama Fondo Pinuccia Spadotto, che è stato istituito a dicembre, quindi prima di Natale, con la Fondazione per Malnate, Caos, Città delle Donne e soprattutto la famiglia Furini. È un fondo che vuole ricordare Pinuccia. Pinuccia è stata per noi non solo la nostra presidente per tantissimi anni, ma è stata una donna che ha lottato per le donne, è stata stimolante anche per tutte le istituzioni. Lei amava dire amo la vita e sono amica del mondo e questo è stato un po' il nostro obiettivo, il nostro cavallo di battaglia, per cui con questo motto noi continueremo a effettuare queste iniziative, che non sono solo chiaramente la festa della Befana o l'8 marzo o le varie gite, ma sono anche serate tematiche. Approfitto per fare gli auguri di buon anno a tutti e invitarvi sempre a seguire le nostre iniziative, che potete trovare non solo con locandine pubblicitarie, ma anche sul nostro sito tramite malnate.org. Il resto triunfale! Spettacolare! Un ingresso così! Eh, questa sera veramente Las Vegas! Grazie di aver anticipato come ogni anno la tua presenza, so che sei un po' timida, non vuoi parlare, non vuoi dire, ti esprimi con i tuoi gesti, allora infatti che quest'anno nella gerla hai portato qualcosa, giusto? Perfetto! Tu lo sai cosa c'è? Le calze! Le calze lavate, lavate, vero, lavate! Occhio a chi trova il cartone, è un cattivo segno! E allora adesso i ragazzi e i bambini sono pronti? Guarda quante! Tantissime! Va che vuole un bacio, va che vuole un bacio! Benissimo! Iniziamo rapidamente la distribuzione dei doni e poi la grande tombolata! Buon anno a tutti! Ciao, buon anno! Facciamo un applauso per favore per il mago, su, una bella grande, vi ringrazio, su, grazie! Piano, 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 di là, di là, piano, 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 che tanto dovete farlo ancora! Grazie a tutti! Grazie a tutti!